Quindi, visto che vi sono piaciute tutte queste cose, oggi guardiamo e guardiamo il Cretaceus, cioè il più famoso. Il più famoso è il Cretaceus, cioè ogni dinosauro che abbiamo in nostra immaginazione viene da qui. Questo è un'immaginazione, no? Poi, ovviamente, qui hanno qualcosa, come un drago, guarda un drago. Wow! Ho sperato, perché ieri avevo un copierato, ho sperato che oggi non c'è un copierato per i Cretaceus. Ecco, Pterodactyl, il classico, per direzione, perché aveva un molto pesante. Quindi devo direzione con il Vigwine, aerodinamico. E' molto aerodinamico. E questo è... Entra come un parro, per prendere i fissi in l'acqua. Pterodactyl. Wow! Poi, queste sono nuove creature, perché questi dinosauro, Jurassic Park Evolution, possono fare questo, devolvano in il videogame. E' molto bello vedere questo. Questo è l'acqua. E' molto bello. 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 Ciao ciao.